10 vaccinazioni non sono troppe, anzi sono poche, sarebbe bello avere qualche vaccino in più contro delle malattie che ancora non riusciamo a prevenire. Un antigene è una singola sostanza che stimola il sistema immune. I 10 vaccini messi tutti insieme ne contengono circa 200, i vaccini di qualche anno fa ne contenevano più di 3000. 200 vaccini non sono nulla per il sistema immune di un bambino che esce da un grembo materno sterile e incontra miliardi di antigeni. Basti pensare che una puntura di zanzara espone un bambino a alcune migliaia di antigeni e un graffietto sulla pelle a molti milioni. 10 vaccini sono pochi, non troppi.